Il video curriculum vite, un nuovo modo di intendere l'approccio al lavoro, se ne è parlato questa mattina nella sala formazione a cura di Porta Futuro, ospite della Fiera del Levante 2012, la mission, mettere in contatto le imprese, il lavoro e il territorio, valorizzare il potenziale delle persone e delle imprese e offrire strumenti e risorse per la programmazione dello sviluppo personale, la ricerca del lavoro e lo sviluppo delle carriere. Fornire dati e spunti di analisi aggiornati sul mercato del lavoro non è facile, bisogna tener conto del trend, dei nuovi settori economici e delle nuove figure professionali. Oggi i tutorial live. Con Tiziano Milani di Porta Futuro simuliamo un video curriculum. Allora, buongiorno a tutti, io sono Tiziano Milani, responsabile marketing di Porta Futuro, in questo momento faremo un piccolo abstract del video curriculum, si inizia dalla parte introduttiva, quindi dire sono Tiziano Milani, ho 33 anni, sono laureato in sociologia con una specializzazione in comunicazione di massa, ho preso successivamente un mastering operativo in marketing e comunicazione di impresa, ho iniziato a lavorare nel 2002 in una piccola agenzia editoriale per cui mi occupavo dei rapporti internazionali fra imprese, successivamente per una società cinematografica per cui curavo il marketing e la comunicazione, ho iniziato poi le mie esperienze all'interno di agenzie di comunicazione nazionali ed internazionali fino ad arrivare all'esperienza con Porta Futuro, appunto per la quale faccio il marketing e la comunicazione istituzionale, conosco l'inglese in maniera abbastanza elevata e lo spagnolo a livello scolastico, le mie competenze sono il marketing strategico operativo e la comunicazione sia di prodotto che di marca, ho realizzato vari progetti oltre 50 in campi dal consumo di massa all'arredamento all'online e attraverso azioni di below the line e above the line, le mie perspettive per il futuro sono quello di crescere in questo campo e andare avanti con le mie esperienze, formarmi e cercare finita questa esperienza con Porta Futuro delle altre realtà che possano stimolarmi e cercare di andare avanti professionalmente. Assunto